Il canile di San Giuliano rischia di chiudere. Dieci giorni fa abbiamo ricevuto una lettera dal comune dove ci comunicava che non veniva rinnovata la convenzione, che avrebbero provveduto a spostare i cani di competenza del comune e che dovevamo demolire perché il comune farà un canile nuovo. Una doccia fredda per i volontari, la maggior parte è under 30, che si dedicano anima e corpo ai cani, 40 al momento, e che credevano di trovare un accordo con l'amministrazione che però non c'è stato. Sul posto si è recata la consigliera PD Monica Sambo. Un anno fa avevamo fatto una commissione per discutere della questione del canile ed era stato promesso dall'assessore di rivederci dopo una settimana. La commissione era stata convocata ma la mattina stessa della commissione, ancora ad aprile 2016, è stata revocata. Vogliamo capire se c'è la volontà di mantenere, a prescindere da questo, o comunque un nuovo canile a San Giuliano, perché è evidente che il territorio ha necessità di una struttura del genere. Ad ora non c'è alcun tipo di previsione ed è questo che chiediamo all'assessore, se c'è la volontà di fare un nuovo canile. Ad avere la peggio in primis sono gli ospiti a quattro zampe già provati da situazioni precedenti, come maltrattamenti o abbandoni. Parlare di trasferimento, pensando appunto a un canile nuovo, però parlando di concretezza, in questi 40 cani molti stanno facendo un percorso educativo, molti sono seguiti da istruttori, educatori che ci stanno aiutando e questi cani stavano iniziando a fidarsi, avevano iniziato un percorso che in qualche modo verrebbe vanificato. Quindi sicuramente noi ci aspettavamo da parte del comune, quantomeno un avviso, una collaborazione, trovare una soluzione insieme. Nel frattempo l'associazione rivolge un appello a tutte le persone interessate ad adottare un cane il prima possibile, prima della chiusura. Il 3 e il 4 giugno, dalle 10 alle 18, le porte saranno aperte per chiunque volesse dare una nuova casa agli ospiti del rifugio.